Quando ho vede da mangiare, mangia sempre, per un bel po', poi un giorno non mangia. E' andata a cattare. Mangia di più. E poi la bambina da sola va al bagno, non vuole più che lo piccolo. E il primo giorno, tre giorni mi ha cattato, c'era di stronzare che sono i maschi. E dopo il secondo giorno, due volte a cattare. Lei scappa ormai i pisci, calca l'asola, la sera gli mettono il pallocco, ma la mattina è asciutto. E qualche volta lo odorano tutto, perché la sera gli fanno la sciaura e tutto, e lo rimettono la sera presa. Ma insomma, proprio mi è venuto di telefonarti, perché qui sai dove mi siedo io, che c'ho solo le panche, quando arriva a Venezia e dici, sali su, no? Che poi va... Sì, sto ormai. E allora, ti ho detto che sto qui. Che il mare è una tavola, che sotto a... E ci sono le panche, sopra queste panche. E c'è il venticello perché sto all'ombra io, perché solo non posso stare ferma. E aspetto perché ne ho undici e metto, quando stavo ancora bene, se vieni un... Ma non so, a casa c'ho da mangiare. Perché ieri sera sono passata a mezzanus che ho preso.